Io non lo so se a Natale si diventa tutti più buoni, ma una cosa la so per certo. Col capitalismo a Natale si fanno i regali e un canale come questo non può non portare una serie di libri consigliati per gli acquisti natalizi. Per l'esattezza, otto. Buongiorno a tutti e bentornati su Uno scrittore sul web. Io sono Pietro, H. Imp, su YouTube e oggi parliamo di otto libri, anzi non parliamo di otto libri, oggi otto consigli per gli acquisti natalizi, ovviamente a tema narrativa. Perché otto? Perché ho guardato la mia libreria e ho detto ovviamente non ho la più palida idea di con chi io abbia a che fare nel momento in cui faccio questo video. Chi mi sta guardando? Vi piace la fantascienza? Vi piacciono gli horror? Gli storici? Allora ho detto va bene, porto questi otto libri di otto generi diversi in modo da cercare di accontentare il maggior pubblico possibile. E se qualcosa manca, beh, è inevitabile ovviamente. Ho detto otto generi diversi, non tutti i generi diversi. Questo è solo un video su YouTube, mica l'inciclopedia. Cominciamo quindi da un romanzo storico. Un romanzo storico non significa libro di storia, significa un romanzo con basi storiche tendenzialmente confermate, ovvero luoghi reali, avvenimenti reali, fatti tendenzialmente reali. Ho già detto avvenimenti reali, quindi in realtà questa è una ripetizione. Però romanzati, con personaggi di fantasia o ispirati a personaggi effettivamente esistiti, eccetera, eccetera, eccetera. E in questo caso vi ho portato di James Clavel. Shogun. Sottotitolo La grande saga del Giappone feudale, spietato e misterioso. Shogun è un romanzo che mi ha letteralmente rapito. Nonostante la sua cicciosità, si legge che è davvero un piacere. Siamo nel 1600 e come ben sapete nel 1492 fu scoperta l'America. Da quel momento l'esplorazione del mondo ha preso un aspetto del tutto diverso. Se si è scoperta una nuova terra immensa come l'America, ovviamente inteso come tutto il continente americano, di cui nemmeno si sospettava l'esistenza, chissà mai che non esistano altri luoghi. Se quelle non sono le Indie e siamo andati dalla parte sbagliata, che cosa ci può essere invece in direzione delle Indie? Ovviamente ci sono le Indie, che nell'immaginario dell'epoca erano la Cina, l'India e paesi limitrofi, e poi oltre la Cina, oltre il mar cinese, c'è il Giappone. E il Giappone è un'isola in cui il popolo ha un modo di pensare molto particolare. La storia narra di questo marinaio portoghese che si trova a sbarcare in Giappone per scopi meramente, puramente commerciali, e si scontra con una popolazione che fondamentalmente è molto razzista, vede molto di malocchio chiunque venga dall'esterno, perché inferiore, e questa è una storia che fa parte della storia dell'umanità da sempre, e che sta cercando di importare modi di pensare, credenze religiose, che non vanno bene loro. I giapponesi sono molto conservatori, sono molto chiusi mentalmente e culturalmente, e sicuramente nel 1600 il fatto che ci fossero persone che tentavano di portare il cristianesimo in Giappone non era visto molto di buon occhio, e il nostro protagonista, per quanto non un missionario, è un bianco, un bianco barbuto e puzzolente che mangia carogni e macilente, e quindi non visto di buon occhio. Ma ormai si trova lì, e visto che la sua vita viene risparmiata, altrimenti esisterebbe un tomo grosso come questo, quali traversie attraverserà? Riuscirà a spezzare il Giappone, o sarà il Giappone a spezzare lui? E che cosa significa pensare come un giapponese nel 1600? Un romanzo estremamente ben scritto, estremamente dettagliato, una vera miniera di informazioni storiche, e comunque allo stesso tempo, a livello di narrativa, è da un lato a volte conturbante, talvolta invece appassionante, e vi tiene sempre sul filo del rasoio tra intrighi, tradimenti, amori, avventura, guerra, e personaggi della psicologia estremamente ben delineata. E quindi questo era Shogun di James Clavel. Penso che si pronunci Clavel e non Clavel. Abbiamo visto il romanzo storico, bisogna per forza portare un horror, ma non un horror qualunque, ben sì, il grande classico di Bram Stoker, Dracula. E metto le mani avanti per chiunque mi potesse dire ma è scontato, certo che è scontato, se l'aveste già letto, ma per tutti coloro che non l'avessero letto, sicuramente conoscete Dracula, è praticamente impossibile, anche se non ve ne fregasse proprio niente di vampiri, horror, è impossibile non conoscere Dracula, almeno di nome, e sapere a grandi linee chi fosse, almeno da un punto di vista della narrativa, perché ovviamente Dracula in realtà è un personaggio storico che poco ha a che fare, se non come radici, con il personaggio di Stoker. Ma Dracula non è solamente un horror classico, è anche un magnifico romanzo. Si tratta di un romanzo epistolare, significa che è interamente sviluppato attraverso lettere e anche diari e diari di viaggio. Quindi non ci sono mai scene dirette, non ci sono mai scene in prima persona, ma solamente la narrazione postuma degli eventi, o tramite lettere, o tramite annotazioni personali. E già questo lo rende molto peculiare, perché non è affatto semplice scrivere un romanzo in questa maniera, ma Bram Stoker lo fa in maniera eccellente. E quindi non è solo estremamente piacevole da leggere, ma da un punto di vista tecnico, se foste comunque aspiranti scrittori o feticisti dei libri in generale, potrebbe essere molto interessante leggere anche soltanto per vedere come è sviluppato. E comunque Dracula è un fior fior di romanzo, con il principe delle tenebre, in Transilvania, ovviamente, che ci mostra originariamente, non nella storia, nella mitologia e nel folklore, perché i vampiri sono molto cambiati nel tempo, ma originariamente dal punto di vista della fama, quando i vampiri hanno cominciato a diventare davvero dei personaggi famosi nel cinema, nella letteratura e così via, come fossero visti, non come i vampiri dei film e delle serie tv di oggi, ma il vero signore della notte, con la sua capacità di trasformarsi, con la sua capacità di ammaliare e con la sua capacità di sopravvivere nonostante i tentativi ripetuti di distruggerlo in tutti i modi. E quindi Dracula di Bram Stoker è assolutamente obbligatorio in questa lista natalizia. Al terzo posto, siccome ci stiamo prendendo un po' troppo sul serio tra romanzi storici e horror, Terra di Stefano Benni, per farci due risate. In realtà, Terra di Stefano Benni, come molti dei libri più datati di Benni, che adesso è anziano e comincia a scrivere delle cose che secondo me sono discutibili, quello che c'è all'interno del romanzo in realtà è profondo. C'è un retropensiero molto sviluppato e ci sono molti temi importanti che vengono toccati. Però, ovviamente, trattandosi di Benni, sempre in chiave estremamente ironica, è molto divertente da leggere, come sempre, è scritto estremamente bene e Terra è ambientato in un futuro che non esito a definire distopico, ma in cui la distopia non è data, come nei classici romanzi distopici, ma è data in chiave ironica. Benni tipicamente descrive i suoi personaggi, le ambientazioni e gli eventi in maniera sarcastica, come se appunto stessimo guardando uno show di serie B. Le cose che succedono ai personaggi sono spesso e volentieri terribili, quasi fantoziane talvolta, e, come fantozzi, strapano inevitabilmente un sorriso, perché non possiamo fare a meno di vedere l'umanità che effettivamente nuda e cruda viene presentata nei libri di Benni, ma allo stesso tempo, come molte persone trovano ilare di ridere delle disgrazie altrui quando uno si fa male, basta di guardare le candid camera, i paperissimi e quelle cose lì, inevitabilmente Benni ci porterà un po' a riflettere, ma soprattutto a ridere. E quindi, terra di Stefano Benni per un Natale un po' più leggero e ilare, a meno che non voleste concentrarvi troppo sul mondo disastrato che è riportato all'interno di questo libro. C'è stato un tempo in cui gli zombie erano annoverati nell'horror, e lo sono ancora, ma ormai a livello di letteratura, a tema zombie, film, serie tv, videogiochi, musica, qualunque media vi venga in mente, ha affrontato gli zombie in maniera massiccia. Tanto che ormai zombie zombie è diventato un genere, praticamente, il genere Zeta. E quindi, benché io abbia già portato un horror, non posso non portare. Apocalisse Zeta di Manuel, di Manel Loureiro. Scusate, non riesco, mi incarto sempre un po' a pronunciarlo. Apocalisse Zeta è un romanzo di zombie, ovviamente, primo di una trilogia. Una trilogia che va un po' calando verso il finale, ma il primo in particolare è estremamente godibile e, benché dia decisamente adito a un seguito, non sia autoconclusivo, può essere eletto indipendentemente senza soffrire eccessivamente poi della mancanza dei due successivi. Scritto molto bene, ambientato una volta tanto in un'ambientazione che non siano gli Stati Uniti, grazie al cielo, bensì in Spagna, ha come protagonista un personaggio decisamente fuori dagli schemi classici della narrazione zombie, è interessante, è di intrattenimento, è ben scritto e dà anche molti spunti dal punto di vista di ma se domani ci fosse veramente un'apocalisse zombie, come potrei difendermi dai morti viventi? Questo è qualcosa che viene spesso e volentieri affrontato sia nei film che nei videogiochi che nei libri a tema zombie, ma in genere sono soluzioni a dire poco rocambolesche, basti guardare il notissimo The Walking Dead, in cui talvolta per motivi idioti fanno tutti una fine orribile e altre volte le soluzioni sono qualcosa di articolato oltre ogni immaginazione, mentre qui il personaggio è per la maggior parte del tempo da solo e deve arrangiarsi con i suoi mezzi e le sue conoscenze contro un intero mondo che gli dà contro in un certo senso e ci riesce, ci riesce facendo un po' di disastri ma riesce a sopravvivere egregiamente dando anche degli ottimi consigli anche se dubito fortunatamente che mai saranno utili a qualcuno nella vita reale e quindi Apocalisse Z di Manello Reiro è assolutamente da non perdere se foste amanti ovviamente di letteratura zombie anche probabilmente lo conoscerete già oppure se voleste leggere un buon libro a tema zombie che una volta tanto appunto sia un buon libro che non è così semplice King stesso scrivendo Cell ha dimostrato come uno possa essere un grandissimo scrittore e non riuscire a portare gli zombie su carta senza farci una figura orribile perché è un tema estremamente difficile da portare in narrativa senza scadere nel trash più assurdo e tra l'altro il fatto che il protagonista sia per la maggior parte del tempo da solo non è male perché a livello di stile non è semplice scrivere scene in cui c'è un unico protagonista da solo con l'unica compagnia di un gatto senza dialoghi senza interazioni con altre persone è molto complesso stendere una storia come questa e quindi ne vale la pena abbiamo superato la metà ecco il quinto consiglio che vi do un consiglio che chi segue il mio canale che mi conosce probabilmente non si aspetterebbe perché è Marina di Carlos Ruiz Zafon c'è stato un tempo in cui ho fatto il gravissimo errore mi pare che fosse mondo libri o qualcosa del genere sapete quelli che vi fermano per la strada e vi propongono abbonamenti mensili e loro vi mandano libri a caso da leggere ai tempi feci l'errore di fare un tentativo provai economicamente assolutamente sconsigliabile e anche come scelte assolutamente sconsigliabile perché spesso e volentieri mi è capitato di ricevere roba o di avere anche comunque tra le scelte solo cose che non avrei mai letto in vita mia ma all'inizio uno dei primi è stato Marina di Zafon che è una cosa che non avrei mai letto in vita mia e invece l'ho apprezzato e questo mi ha portato ad acquistare e leggere altri libri di Zafon che è uno scrittore estremamente talentuoso che ha il grosso difetto come la maggior parte degli scrittori latini e con latini intendo spagnoli e tendenzialmente sudamericani come la Isabella Liende di essere molto molto ripetitivi nel senso che letti uno due tre libri di quell'autore e sono spesso volentieri autori estremamente prolifici li avete letti tutti in realtà Zafon non fa eccezione ne ho letti sei e dopo il secondo ho cominciato ad avere un senso di déjà vu pazzesco a ogni pagina a ogni riga però bisogna dire alcune cose innanzitutto Marina è un'ottima storia e Zafon è un ottimo scrittore e l'ambientazione di tutti i suoi romanzi è sicuramente molto d'ispirazione è suggestiva a dir poco i suoi personaggi sono sempre gli stessi alla fin fine non perché siano effettivamente gli stessi personaggi ma perché si assomigliano tutti la storia è a grandi linee sempre la medesima ma se non aveste mai letto Zafon leggerne uno unico può essere un'ottima idea per cambiare un po' senza però andare ad ammorbarsi con tutta l'opera di quell'unico autore ci sono diversi romanzi validi suoi vi consiglio Marina più per una questione affettiva perché è stato il mio primo semplicemente libro di Zafon quindi ripeto ho detto il suo nome 25.000 volte Carlo Suiz Zafon Marina è un libro per Natale che vi consiglio non poteva assolutamente mancare un libro di King abbiamo già portato l'horror però in questo caso non è propriamente horror King secondo me viene definito erroneamente il re dell'horror perché sì alcuni suoi romanzi sono di quel genere e lui è diventato molto famoso per questo e alcuni suoi romanzi molto famosi sono effettivamente horror ma lui non scrive solo quello ne è un ottimo esempio tanto per dirne uno il miglio verde ma ha scritto anche dei fantasy come il talismano e tutta l'eptalogia della torre nera che non è una cosa da poco e scrive anche dei romanzi che potrebbero essere definiti tranquillamente dei thriller in questo caso scusate se non ho la sovracopertina ma è usato e così l'ho trovato cose preziose precious things di Stephen King è davvero un ottimo romanzo che può essere lontanamente annoverato come horror ma fondamentalmente è semplicemente un romanzo un romanzo di cui non vi posso rivelare quasi alcun dettaglio perché l'idea fondamentale l'idea di base dell'intero romanzo viene rivelata man mano che si procede e quindi finirei indubbiamente con il rovinarvi la sorpresa qualunque cosa dicessi quindi vi posso dire che Cose preziosi di Stephen King è un romanzo molto più profondo di quanto non potrebbe sembrare King spesso e volentieri è più profondo di quanto il pubblico medio non si aspetti o non si renda conto soltanto che essendo uno scrittore commerciale inevitabilmente ha uno stile e un modus operandi che fanno sorvolare su alcuni aspetti più profondi delle sue opere per concentrarsi maggiormente sul fatto che sia comunque ben scritto comunque molto scorrevole e comunque lui sforni più libri di quanto uno possa probabilmente leggerne in intera vita Cose preziose parla di avidità parla di demonio ma parla anche di piccoli quartieri di odio tra vicini di difficoltà di integrazione di bigottismo o bigotteria si dice credo bigottismo e insomma è un libro ricco di temi con un'idea di base che mi ha davvero davvero rapito e dei personaggi come sempre quando si parla di King molto ben delineati estremamente approfonditi e c'è sempre quel pizzico di humor nero che King non ci fa mai mancare quindi Cose preziosi di Stephen King per quanto grosso ovviamente scorre sempre via facile come l'acqua un regalo natalizio per qualche appassionato di King a cui magari mancasse l'opera o a qualcuno che normalmente non legge questo autore perché magari non lo convince a causa dell'immagine che ha di lui e che invece potrebbe scoprire che c'è molto di più di quanto non sembri in questa lista una volta tanto adesso è un po' che non ne parlo effettivamente perché mi è stato fatto notare che ne ho portati troppi non parlerò di fantascienza ma mi ci avvicinerò parlando di cyberpunk William Gibson inventore del genere cyberpunk almeno in stile narrativo con luce virtuale questo è un urania ma naturalmente non tutti i libri di Gibson sono urania è che io ho un sacco di urania ma penso che chi conosce il mio canale ormai sappia che questo è proprio un dato di fatto fatevene una ragione il cyberpunk è un genere non semplice è un genere non semplice da comprendere è un genere non semplice da leggere soprattutto il primo impatto può essere un po' strano può confondere un po' è un genere probabilmente non facile da scrivere e non è un genere estremamente popolare o diffuso a oggi è maggiormente conosciuto grazie un pochino alle influenze in alcune band influenze musicali un pochino per qualcosa che è stato portato nel cinema anche se mai un vero cyberpunk puro e soprattutto per lo stile per i got cyberpunk quelli che hanno googles rasta o codini finti e sono vestiti in maniera un po' particolare cercate cyberpunk su google e google immagini per capirci luce virtuale è uno dei numerosi romanzi di Gibson che ha letteralmente fondato un genere e questo potrebbe essere definito per i non addetti ai lavori un giallo poliziesco a tema distopico ovvero un romanzo cyberpunk con una narrazione di tipo giallistico luce virtuale è molto interessante e probabilmente rispetto ad altri romanzi cyberpunk quante volte ho detto cyberpunk da quando ho preso in mano a questo libro non lo so è un po' più facile da leggere ce ne sono alcuni che sono a volte davvero ti disturbano perché questo universo questo mondo creato da Gibson ha tutta una serie di caratteristiche particolari tecnologie modi stili di vita che sono propri dell'universo stesso ma contrariamente a un Tolkien che per ogni cosa ti fa uno spiegone di dieci pagine Gibson ti butta semplicemente in faccia le cose e sta a te man mano che leggi capire a che cosa servono che cosa significano devi integrarti col libro questa è una cosa abbastanza particolare quindi all'inizio capiterà di leggere cose tipo gli sparò con la sua capsulosfera e tu dici che cosa diavolo è una capsulosfera perché non te lo spiega e poi pian piano capisci che si tratta di un'arma che è fatta in un certo modo che ha determinati effetti e così via il cyberpunk si lega al genere della fantascienza ma contrariamente alla fantascienza non ha quasi nulla di plausibile nella tecnologia che presenta sono quasi tutte cose veramente altamente improbabili e ha sempre un tema distopico e quindi William Gibson luci virtuale ve lo consiglio per un'esperienza diversa dal solito o se aveste un amico che non ama particolarmente leggere voleste regalargli una cosa che gli farà passare la voglia per sempre e finalmente abbiamo finito questo è l'ultimo e finiamo in ridere perché abbiamo parlato anche di un sacco di cose seri di un sacco di romanzi seri Terry Pratchett il tristo mietitore il tristo mietitore l'ho scoperto per caso non avevo mai sentito parlare di Terry Pratchett un anno sono andato in ferie all'isola d'Elba e mi sono dimenticato di portarmi dei libri da leggere quindi sono andato a una libreria e c'era questa questa copertina simpaticissima il libro costava anche abbastanza poco vabbè lo prendo lo provo allora è così divertente ero con la mia famiglia è così divertente che ho passato letteralmente ogni viaggio in auto nello spostamento tra una zona e l'altra a leggere ad alta voce le scene del libro e ci siamo fatti tutti un ridere pazzesco continuamente Terry Pratchett è il re del fantasy in un senso umoristico purtroppo recentemente è morto ma ha lasciato dietro di sé un'opera vastissima mondo disco è un mondo creato da Terry Pratchett appositamente per ambientarvi le sue storie assurde allucinanti e divertentissime in cui nulla è ciò che sembra e tutto ciò che è effettivamente è qualcosa di diverso il tristo emettitore in particolare affronta un tema che è già stato in realtà affrontato in alcuni cartoni animati in alcuni film un po' meno seri ma in maniera più approfondita comunque il romanzo è abbastanza grossino anche se devo dire dal carattere abbastanza ciccione quindi in realtà non è questo librone lunghissimo ovvero che cosa succederebbe se la morte perdesse il lavoro e soprattutto cosa succederebbe sul mondo disco un mondo appopolato di maghi tendenzialmente anziani e scordarelli di gnomi di creature fantastiche di leggi regole città assolutamente fuori dall'immaginario comune che hanno tutte le caratteristiche per essere definite fantasy ma si allontanano un sacco dal canone fantasy ovvero dal canone tolkeniano o dal canone magari che è stato impostato da Narnia piuttosto che dalla bussola d'oro o da altri fantasy classici è un fantasy stranissimo la morte viene licenziata e in attesa che arrivi il suo sostituto improvvisamente tutti cessano di morire e anzi ancora meglio alcuni tornano decisamente in vita e tutta questa enorme energia vitale causa anche un po' di problemi perché l'aria ne pregna e anche gli oggetti inanimati cominciano a prendere vita e nel frattempo la morte che da sempre ovviamente ha sempre e solo fatto la morte si trova a non sapere esattamente cosa fare e quindi si cerca un lavoro e affronterà dal punto di vista di gente mortale che normalmente la morte ucciderebbe appunto per mestiere a vedere la vita dal punto di vista di qualcuno che il tempo ce l'ha soltanto per un tempo limitato in concessione molto divertente molto ben scritto molto divertente non è sufficiente è esilarante Terry Pratchett il tristo mettitore assolutamente consigliato per una buona lettura che allo stesso tempo renderà l'animo un po' più leggero e finalmente ho terminato 8 libri per Natale che vi consiglio caldamente sono tutti 8 è il gioco di parole tutti 8 ottimi libri sono tutti scritti estremamente bene sono di generi più o meno tutti diversi anche se c'è questa tendenza all'horror me ne rendo conto soltanto adesso naturalmente se voleste acquistarli online senza andare nella vostra libera di fiducia qua sotto link Amazon in descrizione per ognuno dei libri che vi ho citato e detto questo tra l'altro a proposito di link e tutto vi ricordo che ho una pagina Facebook un gruppo Telegram e un Patron un Patreon non ce la posso fare a non confondermi ho un Patreon che è quel posto dove stanno i Patron che mi aiutano economicamente a portare avanti tutti i miei canali non soltanto uno scrittore sul web e in cambio ricevono qualche premiuccio come per esempio alcuni video in esclusiva e la possibilità di mettere becco su per esempio in questo caso la prossima recensione letteraria che porterò e detto questo un mi piace un'iscrizione una condivisione di questo video con i vostri amici appassionati di letteratura e narrativa e non diffondiamo un po' di passione di leggere un po' di passione di scrivere nel mondo di Youtube che è tenesemente ignorante criticone trash e noi ci vediamo lunedì prossimo alle 15 puntuali e noi ci vediamo